In ora di uscire a spiegare la formazione del Toro! Il nostro mister di base! Lui! Conile numero 32! Miracoli! Conile numero 61! Andiere! con il numero 4 Alessandro con il numero 13 Riccardo con il numero 10 con il numero 17 Carole con il numero 8 Iba Con il numero 27 Merti Con il numero 16 Nicola Con il numero 9 Tony E con il numero 2 Duval A disposizione Con il numero 1 Luca Acevello Con il numero 71 Miai Popa Con il numero 6 Davizima Con il numero 7 Jan Karamo Con il numero 10 Nevagna Radonjic Con il numero 11 Pietro Pellegri Con il numero 15 Sama Sasanoff Con il numero 20 Valentino Nazaro Con il numero 23 De Bassec Con il numero 26 Kofi Gigi Con il numero 28 Samuele Ricci Con il numero 66 Città Con il numero 1 Io Con il numero Fondare Con il numero Re Con il numero